Buon day e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in casa I palboy O I palboy? I palboy Non so come riuscirete a scrivere nei commenti Perché è la stessa cosa Siamo qui in un video vlog Abbiamo deciso di riempire la piscina di Giallo Con gli slime Con le slime Mi pare giusto no? Abbiamo preso un pochino E riempiamo tutta la piscina di slime Ma che ospite speciale vi ho portato? Cioè Qua è venuto a Vicenza direttamente apposta Solo per riempirli la piscina Allora io li rimettiamo tutti qua Raga sto malissimo Stiamo malissimo Siamo tutti e due raffreddati Cioè è una cosa incredibile Raffreddati a giugno Fa un caldo bestia e siamo malati E dovete capire che qua a Vicenza dove abito io Il tempo è una cosa stranissima Due secondi fa stava piovendo E noi abbiamo detto no Adesso ci buttiamo in piscina Non registrante il video Piove Comunque lasciate già un bel mi piace Se nella vostra vita avete visto uno slime Ho toccato Almeno per una volta uno slime Visto ho toccato Lasciate un mi piace Oggi lo aiuterò a riempire la piscina Madonna Perfetto raga Allora abbiamo riempito Tutto questo sacchetto qua Siamo nel vlog 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 Mi aiuterà Ovviamente a riempire La piscina di slime Anch'io vi lascio link qua Perché mi dà la possibilità Di riempirgli la piscina di slime Quindi raga vi raccomando Lasciate un bel like Se avete mai toccato Ho visto una piscina Raga questa è la piscina È bella grande Riusciremo a riempirla Qua comunque qualche giorno fa C'è stata una lotta Sì esatto Trovo tu vai Vediamo Allora due minuti fa Vedrete nel suo vlog Che ho appena flippato Una bottiglia Concentrazione Tieni mano di tutte le camere Mi sto doppio vloggando Ci sono Lasciate un mi piace Se avete visto Almeno per una volta Una bottiglia di fanta No lasciate un mi piace Se avete mai trovato Un flippare una bottiglia Dai Dai prevedere Chi non lascia like Adesso raga Chi non ho mai Prata a flippare una bottiglia Attenzione Perfetto Perfetto Potete vedere anche Il suo canale Allora ragazzo Sto per fare anch'io Il 360 Però faccio il ciladino Esatto Così non si rischia Allora Da che parte Così O così Ok 360 Attenzione Musica 360 Wow Benvenuti in questa puntata del bivio Oggi siamo qui con Oggi siamo qui a intervistare tre cani No 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 Oggi siamo qui con Gianluca L'uomo che parlava ai cani Allora dimmi tutto No non ci credo davvero No Cosa Davvero Stai scherzando Stiamo per dare inizio alla rivolta La piscina colorata di slime Tutta piena di slime Tutta appiccicosa Semollosa Diventerà una palude Ce la facciamo dai Abbiamo un pochino Ok ci siamo Mi sta partendo Una indigestione Che non so Raga nel frattempo Già l'ho entrato in piscina Già l'ho entrato in piscina Tra poco lo raggiungerò Devo solo andarmi a cambiare Tanto io sto vloggando qua Sto vloggando qui Sto vloggando Sì sì intanto la fanta L'ho flippata io Come si apre? A me lo chiedi Sei tu il giocatore di slime Sono io il concorrente Mi sa che io ci rinuncio Te lascio in piscina Raga cosa si fa? Ma ti giuro Cazzo che forza che hai Guarda Alla su Special gas Adesso si butterà Sto togliendo un po' di alveari di vespe Come? Come? Che pieno Da vedere Raga La faccia di Giuseppe Guarda come alveari di vespe Ma che neanche intenta fare una sfida No no Non dobbiamo andare sul tetto Era giusto così Vabbè io non ce la faccio Vi giuro Fabri come si fa ad aprirlo? Vuoi provare ad aprirlo? Te lo lancio Attenzione Cabbie di programma Lo aprirò Giusem Questo è un molliccio di brutto Ah questo è Oddio E come facciamo a riempire la piscina di questo? Beh non riusciremo secondo me a riempirla proprio del tutto Però Un minimo ci proviamo Guardatevi fino alla fine Esatto E non è un kick Esatto A me ha questo onore Buttalo Tutto tuo Attenzione Palla In campo Si inizia Oddio È inurato Beh no Affonda Oh Sì ha ragione raga Allora io te ne fai il tempo Esco un attimo Sì Apro tutti questi qua E poi direi Allora visto come te l'ho aperto in due secondi Cosa? Visto come te l'ho aperto in due secondi Ma chi l'ha visto questo? Ma scherzo Chi cazzo l'ha visto? Ok Allora adesso io darò una mano Io darò una mano giallo a riempire la piscina di slime Ma prima di farlo Devo andarmi A cambiare Perché non posso entrare così Sto cercando di ricordare Dove ho messo Eccolo Eccolo qua Il mio slime Ecco Io nel frattempo riempio un pochino Ok bro Ok Io vado a chiedere a tua mamma Le chiavi Chiedi le chiavi A meno che non siano già su un po' con sicurezza Chiedi Mi faccio dare un pantaloncino da calcio Sì sì Ok Ok Bella Oh aspettami eh Non metterne troppi Ne metto due Intanto io continuo a vloggare ok Va bene Ok raga ho preso Ho preso due slime Senza che se ne accorgesse Perché sapete che io Dovunque vada Devo fare un prank Adesso chiedo alla sua mamma Di accompagnarmi sul tetto E provo Spero di riuscirci Con solo due Sarà un'impresa Devo proprio Mirarlo Da sopra Proverò a tirarle lì in testa Mi accompagno Su che Gli tiro Le slime in testa Luca? Sì Ma lui è dal tetto? Dal tetto Complice Tu però devi salire sul tetto Sì Ok raga Siamo sul tetto Da che parte è la piscina? Di là Ok 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 perché ci sente Arrivare Ti sta chiamando Ma dov'è? Aspetta 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 Non c'è Non c'è Eccola Eccola Comunque Comunque Raga Io non posso fare un cazzo Comunque raga Io non posso fare niente Finché Giuse Non arriva qua Non posso fare niente Perché Questa roba Questa roba Questa roba Questa roba Questa roba Questa roba Più difficile Non lo so Oltre che Guardate Mi sta lasciando Tutte robe così Ok mi sta lasciando Davvero Qualsiasi roba Appiccicata Guardate Oh c'era una vespa No bro No Stai scherzando Roma L'hai fatto tu No Io Ma stai scherzando Mi è arrivato in testa Ragazzi Ti ho mancato Il primo colpo Non usciva Stai scherzando Mi hai tirato Lo slime in testa Bro Ma che cazzo è Ma mi è arrivata Una pacca in testa Se non lo so Mi è caduto Il mondo in testa In telecamera Non mi prendi Ma tu che cazzo fai Da complice No no Io non ho fatto L'accomplice L'ho solo accompagnato Sul tetto Ciao giallo Sei stato francato Ma cosa fate adesso Scusa Come faremo Riempire tutta la piscina Comunque Ma Ma ne hai lasciati due Eh sì Con uno T'ho mancato Non ci credo Ti giuro Perché ho fatto così Non usciva dal tubo Sì sì È stata proprio una roba veloce Ci è venuto in mente prima Aspetta No bro Io lo giuro Sì sì Ah no Il dito mortaccia Ti giuro È quel male Mi sono Bella giallo Ti raggiungo No adesso però Davvero Devi venire tu Perché non so Dove sono i pantaloncini Oh allora ti è piaciuto Ma è una roba Ma ti giuro È stato bruttissimo Tipo Non so neanche come spiegarlo Qualcosa che ti cade Ti giuro Stavo pensando Cosa c'era lì Mamma mia ormai Ormai c'è C'è Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Per fare Eh per aprire lo slime Ma te lo aprire io Mi vuole uccidere Sì raga adesso Ragazzi Possiamo aggiungere La lista Giallo Tra le persone Bricate Vi lascio La descrizione No ma Meno male che me ne sono portati due su Perché il primo ho provato a lanciartano col Ma scusa Quando Con la Con la Con il bicchiere E si è incastrato E ti è caduto dietro Per fortuna Tu non te ne sei accorto Mi sono accorto che hai lasciato lo slime Non mi ero poco accorto E il secondo Il secondo bellissimo Proprio in testa Splash Ma ti hai dato mia mamma Ti hai dato lo slime Vi ho presi Però tu non ci hai neanche dato caso Vittoria reale Questo è il balletto Il balletto di Fortnite Perché questa è una vittoria reale Raga spero che questo scherzo vi sia piaciuto A lui è piaciuto parecchio Invece E' una bella sensazione Non potete capire cosa vuol dire Dare un tetto Un pallotto Così di slime sulla terra Dico Boing Lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag Boi Prencato Iscrivetevi al canale Non arriverà mai la vendetta Perché non puoi fare il prank A me No Non si può Non si può E niente Ora mi cambio Vado a dare una mano a lui A riempire la pisciana Di slime Stavolta veramente Trovate il video sul suo canale Grazie a Dio Ciao Bella Ciao 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 Ciao